grande effetto eccoci qua nella cucina del grigio il grigio chef sono io come ingredienti semplici grande effetto oggi sa cosa facciamo facciamo un risottino un risottino tipico milanese quindi un risotto un risotto lo zafferano cosa serve 320 grammi di riso carnaroli 50 grammi di burro mezza cipolla 80 grammi di parmigiano grattugiato una bustina di zafferano un bicchiere di vino bianco buono del brodo vegetale sale pepe e olio bene direi iniziare subito col soffrettino quindi mettiamo l'olio accendiamo ecco qua tagliamo la cipolla taglia lei? no poi piange magari eh oh ecco qua perfetto questa mangi lei mettiamo la cipolla perfetto soffrettino pronto a questo punto iniziamo a far tostare il nostro riso e quindi lo mettiamo ecco qua ecco qua nella padella perfetto iniziamo la tostatura beh direi tostatura perfetta eh vedete che vuole del vino adesso lo dice eh lo passa lei dove va bene dove metterlo nel risotto ne ancora dai facciamo ne ancora sì bene metta metta dai veloce veloce che poi dopo se ne va perfetto basta basta grazie vino benissimo il vino sfumato e direi che adesso possiamo iniziare con la cottura del riso con il nostro brodo quindi siamo giunti a metà cottura quindi direi che è giunta l'ora anche per lo zafferano eh quindi metà cottura ci mettiamo la bustina di zafferano qui e subito aggiusterei anche di sale quindi perfetto ci siamo siamo pronti per la mantecatura quindi ultimo mestolino di brodo così eh stanco eh beh ancora uno di calice voglio dire eh hop scappava alla gamba bene burro ecco qua il formaggio il formaggio e iniziamo a mantecare togliendolo chiaramente spegnendo il gas ci siamo siamo pronti impiattiamo eh meno male ci vuol dire perfetto sotto pentola perfetto giallo come il risotto spostiamo un po' questi eh sì sì perfetto questo non va bene prendiamo l'occhiaio eh spettacolo eh non è che possiamo finirlo così eh avevo preparato un po' di prezzemolo io prima guardi qua un colorino così di formaggio glielo diamo eh guardi che aspetta un po' di verde così eh poi sai cosa faccio? metto anche una fogliolina qua per colorarlo un po' e poi no no ci vuole stavolta sa stavolta ci vuole poco perfetto beh a questo punto cotto speriamo